E buonasera al gruppo degli artisti irpini, continuiamo questo nostro viaggio all'interno del centro commerciale Cognito di Torretti di Mercogliano in compagnia di un altro bravissimo artista come Lucio Biagio Spagnolo, modellista, questi sono i recapiti via settima circoscrizione 9 Bellizia Bellino, il numero di telefono di casa 0825 737 01 il cellulare 339 14 656 e ora assisteremo alla sua opera da lui descritto Facciamo parlare ora al Spagnolo Lucio Biagio E che devo dire, questi sono modelli statici da apprezzare e da valutare meglio di così queste opere non si possono immettere alla visione dei viventi Come è nata questa passione? L'azione è nata un po' per costinzione e un altro po' così poi mano a mano mi sono appassionato un po' per perdere il tempo, ho iniziato a perdere il tempo e poi mi sono appassionato che sono arrivato al top della situazione Però che non diamo le finiture al dettaglio? Al dettaglio, è tutto al dettaglio, è un assemblaggio automaticamente da lavorare, assemblare e ferire per finire il modello Come tempo ci vuole da un anno e mezzo, due anni, ma sono proprio tempi che se si venire richiede Vediamo anche qualche particolare, sia a poppa che a prua Guardate questo particolare Poi anche la presenza delle bandiere di varie nazioni O anche di qualcosa che apparteneva al passato, i vecchi stemmi, reali e non sono Veramente qualcosa di meraviglioso Veramente un ottimo lavoro svolto da Spagnolo Lucio Biagio in un tempo così lungo Come ho detto appunto di un paio d'anni Quindi chi è interessato ovviamente a quest'opera si può rivolgere ai contatti suddetti E noi ringraziamo l'artista Spagnolo Lucio Biagio che magari più là ci delizierà di qualche altra opera Dalla gruppo di FTCP, grazie a tutti